Si sono chiuse ieri sera le primarie nella provincia di Macerata. I risultati parlano chiaro. Matteo Renzi batte per Luigi Bersani con 700 voti in più. Su 16.541 votanti, il sindaco di Firenze strappa il 47,8% di preferenze, imponendosi a Civitanova, Turentino, Potenza Picena, San Severino, Corridonia, Treia e Reganati, mentre il segretario del Partito Democratico si ferma solo al 38,5%. Più distanziato è stato il governatore pugliese Nichi Vendola che raccoglie 2.447 voti con il 14,9% circa. Bruno Tabacci e Laura Puppato tornano a casa a mani vuote. L'assessore milanese deve accontentarsi di 302 preferenze, circa l'1,8%, mentre la consigliera regionale Veneta si ferma a 246 consensi, l'1,5% circa. In provincia dunque vince la voglia di cambiare, ma un consiglio grande successo Renzi lo deve soprattutto alla grande maggioranza dei suoi sostenitori, come il sindaco di Reganate Fiordomo, mentre per Luigi Bersani ha potuto contare sull'appoggio dei grandi esponenti del Partito Democratico, come il parlamentare Mario Cavallaro, gli assessori regionali Sara Giannini e Pietro Marcolini e molti altri, ma ciò non è bastato. L'appuntamento è per domenica prossima per il secondo round.